Saranno più di 80.000 gli aventi diritto al voto della città di Pesaro che sabato 8 e domenica 9 giugno potranno presentarsi alle urne per eleggere il nuovo sindaco dopo dieci anni di Matteo Ricci scegliendo fra quattro candidati. Così come potranno eleggere i 32 nuovi componenti del Consiglio Comunale fra 433 candidati, espressione delle 15 liste presenti sulla scheda azzurra delle elezioni amministrative. Si vota da sabato alle 15 fino alle 23 e poi da domenica alle 7 fino alla chiusura dei seggi alle 23. Per votare i cittadini dovranno presentarsi al proprio seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale. Per munirsi dei duplicati delle tessere sono previste aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Comune. La sede centrale di Largomamiani sarà aperta per l'intera giornata di sabato e domenica al pari del municipio di Monte Ciccardo. Monte Ciccardo che sarà anche chiamata al voto per l'elezione del Consiglio e Presidente del Municipio. Aperti sabato e domenica mattina gli sportelli di Villa Fastigi e Cinque Torri, la domenica mattina quelli di Muraglia, Cattabrighe e Borgo Santa Maria. Il Comune di Pesaro ha sostituito alcuni seggi in particolare per i cantieri di edilizia scolastica. Quelli della scuola Anna Frank si spostano nei locali del quartiere Vismara in via Basento. I locali comunali di Pozzo Alto sono sostituiti da quelli parrocchiali. Quelli di via Petrarca 18 a Muraglia si spostano a pochi metri nel centro socioculturale Salice Gualdoni. I seggi della scuola Mascarucci si troveranno in via Le Trieste 236 negli spazi di Pesaro Studi. Inoltre le tre sezioni ubicate nel plesso Perticari di corso 11 settembre sono trasferite nel plesso del liceo Mengaroni con accesso da via Mengaroni 29, così come le sezioni di Candelara dell'ex scuola elementare di strada della Pieve sono trasferite nella sede della circoscrizione in strada Borgo Santa Lucia 40. Per favorire lo spostamento degli elettori dei seggi sostituiti il Comune ha previsto un servizio di navetta gratuita ogni ora con partenza da via Agostini, sede della Dante Alighieri. Raggiungerà prima Pesaro Studi, poi Santa Maria delle Fabrecce, infine i seggi di via Basento a Vismara.